www.canale58.com, la tv sul web, notizie, video, rubriche, diretta streaming, scarica l'app di Canale58 per tablet, smartphone, iphone. E' tutto rimasto intatto nella cameretta di Rachelina Ambrosini, la giovanissima di Venticano proclamata venerabile nel 2012 da Papa Benedetto XVI. Rachelina abitava nella casa più antica del paese, un palazzo nobiliare risalente al 1600 appartenuto tra gli altri al Marchese Rossi del Barbazzale, sposato con la pronipote di Namo Leone I Bonaparte. In verità, Rachelina nacque a Campanarello, piccolo borgo sulla strada nazionale delle Puglie, oggi denominato Passo di Dentecane. Era il 2 luglio del 1925 quando venne al mondo, portando gioia al papà Alberto, medico molto stimato e riverito nella zona, e alla mamma donna Filomena, devotissima della Madonna. Gli Ambrosini si trasferirono nel 1937 nella grande residenza di Venticano. Oggi, oltrepassando il maestoso portale, ci si ritrova nell'intimità della casa. Al di là del pozzo, al centro del chiostro, si nota l'ingresso del Giardino delle Apparizioni, all'interno del quale si scorge appena la minuscola cappella dell'eremo, riservata al raccoglimento più silenzioso e solitario e alla penitenza personale. Qui accadde un fatto straordinario. La Ambrosini aveva appena 4 anni e raccontò poi alla mamma di aver visto la Madonna in giardino, bellissima, vestita di bianco e con un nastro azzurro. Da quel momento inizia a fare piccole penitenze e a raccogliersi in preghiera. Un altro evento si verificò all'età di 8 anni. Rachelina fu colpita dal morbillo e le sue condizioni destarono preoccupazione. La piccola però raccontò di aver visto Sant'Antonio di Padova, che le rivelò che sarebbe venuto a prenderla all'età di 15 anni e che per il momento sarebbe guarita. Due episodi che rappresentano la sua predestinazione alla gloria celeste e alla santità. A scuola studiava con impegno e con dovere. Era un'alunna molto rispettosa degli insegnanti e sempre disponibile ad aiutare i compagni. Frequentò le medie e il ginnasio a Bari. Poi si trasferì a Roma per iniziare il liceo, quando un male repentino e senza scampo, una meningite acuta, l'aggredì a soli 15 anni d'età. Si chiamarono a consulto i più grandi specialisti dell'epoca, ma Rachelina non guarì e morì il 10 marzo del 1941, mentre in Italia infuriava la guerra. Trasportato il corpo in Erpinia, c'è chi ricorda l'imponente partecipazione popolare al funerale dell'unica figlia di Don Alberto, una ragazza vissuta interamente per il cielo e i suoi resti mortali furono letteralmente sommersi di fiori. Le sue spoglie furono trasferite nel 1958 nella chiesa parrocchiale di Venticano, dove tuttora riposano. Alla presenza del vescovo di allora, Monsignor Venezia, fu aperta la bara e la salma fu ritrovata incorrotta, con i capelli fluenti. La sua tomba è meta di continue visite da parte di chi vuole affidarsi alla sua protezione. Come riportato anche negli atti ufficiali, Rachelina non ha fatto mancare la sua intercessione ai militari in guerra. Una giovinetta vestita di bianco ha suggerito loro come fuggire dal pericolo. Vi sono testimonianze di malati guariti in punto di morte e mamme sterili che hanno partorito. Di recente si è anche verificato il caso di una guarigione inspiegabile, che potrebbe aprire alla giovanissima serva di Dio la strada verso gli altari. Un uomo di circa 40 anni, architetto celibe, sarebbe stato guarito da un cancro alla lingua con metastasi diffusa, proprio grazie all'intercessione di Rachelina Ambrosini. L'8 aprile del 1995, nel Duomo di Benevento, si è chiuso il processo diocesano per la sua canonizzazione. Il 10 maggio 2012 è stato promulgato il decreto che la dichiara venerabile. Ben ritrovati per una nuova puntata di Password. Il ricordo di Rachelina Ambrosini e delle sue opere viene mantenuto vivo da una fondazione a lei dedicata. L'ente si occupa di progetti umanitari sia in Italia che all'estero. È attivamente impegnata in Etiopia, in Sud Sudan, nelle Filippine, negli Stati Uniti, in India, Brasile. Ma qui svolge anche importanti attività di scolarizzazione e di educazione. Ma ovviamente ne parliamo direttamente con il presidente della fondazione, Rachelina Ambrosini, l'avvocato Tommaso Mariaferri, benvenuto avvocato. Grazie, benvenuto. E poi diamo il benvenuto a Roberto Giorgione che è uno dei componenti della fondazione. Allora, avvocato, abbiamo appena visto un po' la storia della venerabile di Venticano oppure come viene definita il giglio di Irpinia. Lei è proprio il nipote, diciamo, c'è un collegamento naturale. Quindi qual è il ricordo che l'è stato tramandato dalla sua famiglia? Quando sono nato mia madre mi affidò a Rachelina. Io ho un'immagine che è la mia età, perché Rachelina è la mia mamma cugine. Ecco, quindi di tutta una storia che poi è stata tramandata nei figli perché questa ragazza è un grande esempio di vita vissuta nella semplicità per il prossimo. E questo doveva essere l'insegnamento anche per noi ragazzi. Cerca di essere sempre attenti per quello che ci si andava a porre nella vita come obiettivi. creare una famiglia, creare e mantenere saldi dei valori che erano i valori semplici di nostre famiglie. Le famiglie dedicate certamente a tenere alta la dignità, ad affidarsi con le competenze che potevano avvenire dalle professioni, a quello che è un discorso sempre di fare rete, di fare squadra, con una partecipazione collettiva, quindi una partecipazione sociale guardando sempre all'ultimo, a chi soffre, in modo silenzioso. La fondazione è una delle più antiche d'Italia, ha 45 anni, adesso compie 45 anni, la prossima settimana. E c'è stata questa volontà da parte dei genitori di Rachelina, quest'unica figlia, alla loro morte hanno voluto far sì che il patrimonio non andasse così perso, ma che andasse a costituirsi questa fondazione, quindi vedendo anche con una idea molto lungimirante su quelli che potevano essere i problemi sociali delle nostre terre, ma anche cercare di poi porsi in un modo di realizzare progetti di prevenzione nel mondo. Da 15 anni seguo la fondazione e sono stato quello che poi ha messo il piede fuori dall'Italia per portare avanti questi progetti che funzionano ovunque noi siamo presenti. Tra l'altro non è solo, perché la sua famiglia è con lei, sua moglie è Liliana e anche i suoi due ragazzi. Leggevo un'affermazione interessante proprio di sua moglie. Rachelina è con noi, cioè in qualche modo ha tracciato il sentiero. Tra l'altro la signora Liliana Rossi ha curato, ha scritto questa biografia di Rachelina Ambrosini. Avvocato, com'è questa frase di sua moglie? Ce la vuole raccontare, ce la vuole spiegare? È una bella responsabilità avere una figlia in più in casa, perché Rachelina fa parte della nostra famiglia e poi proprio perché la fondazione si regge con le famiglie. Abbiamo il piacere, la voglia di stare insieme a tante persone che ci sono accanto, come Roberto con la sua famiglia, ma come tante famiglie che si preoccupano di starci vicino per poter poi far sì che su questo esempio di una ragazzina si possa fare del bene. E questo bene non solo attraversa la nostra strada che è qui di fronte alla televisione, la via nazionale delle Puglie, dove una volta Rachelina era lì che correva per stare accanto agli ultimi, che per il suo tempo erano i profumi, quindi materiale umano più che mai attuale, i soldati, gli emarginati. Consentitemi all'epoca chi stava male veniva messo da parte, erano gli storpi che venivano nascosti. Rachelina li andava a scavare, li andava a scavare per trovarli, per poter dare, nonostante la sua tenera età, anche quel conforto che era ascoltarli, ciò che oggi manca, la parola che non viene ascoltata. Quindi anche questo segno che Rachelina fa parte della nostra famiglia, siamo una famiglia che ascolta. E non ascoltiamo soltanto come noi genitori, che è una convocazione naturale, ma si ascoltano anche le problematiche di tante altre famiglie e di anche altre persone che a volte per vergogno dignità chiedono neppure. Ecco, la fondazione ha questo spirito sociale sul territorio, delle tre province di Avellino, Benevento e Saverno prevalentemente. Quella di andare con la sorpresa, cercare di portare quel segno che è importante, che deve incoraggiare un papà, una famiglia, chi non ha lavoro, ma anche chi soffre nella solitudine. L'impegno, l'abbiamo detto, oltre ai confini della nostra nazione, però prima di parlarne vediamo questo video realizzato appunto dalla fondazione Ritorno a Casa. Ritorno a Casa. Ritorno a Casa. Ritorno a Casa. Allora! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Perché lo dico ancora con quella convinta fragilità di noi uomini che quando però vogliamo fare qualcosa possiamo riuscirci. E' anche un invito a muoverci, ad alzarci dalle sedie, dalle comode di divani, da una televisione, dall'attaccato a un telefonino. Noi nel 2013, settembre del 2013, mettiamo in campo proprio a Salerno, ma dico Salerno come insieme ad Avellino, Beneventi e altre realtà che poi ci sono state vicine, un progetto per cercare di aiutare i medici con l'Africa del CUAM, che è una struttura molto importante italiana, che opera nel sud Sahara. La fondazione è già operativa, già collabora con i medici con l'Africa da più di dieci anni. Però dopo il grave problema che c'è in Africa, che c'era stato sottoposto, la più alta mortalità non la si ha per l'AIDS o per la malaria, poi scoppiava anche il caso Ebola, ma la si ha per la mortalità per parto, bisognava cercare di fare un'opera importante di prevenzione. La prevenzione, indubbiamente, è avere braccia, avere la forza, la passione di solo quelle persone che vivono in quei luoghi così complicati. E diffondere anche la competenza, ovviamente. La competenza che bisognava formare. Noi nel settembre del 2013, insieme a Monsignor Mario Salerno, della parrocchia di San Demetrio, partimmo con un progetto che piano piano doveva cercare di allenare le persone, a mettersi in gioco su un obiettivo che poteva sembrare impossibile. Quello di andare a realizzare nel più giovane, ma anche il più complicato dei paesi africani, il più povero in assurdo, il sud Sudan, una scuola per ostetiche e infermiere da affiancare all'unico ospedale che si trova nella contea di lui. Quindi siamo partiti piano piano, poi ci siamo avvicinati con tutta la prudenza e la precauzione, perciò poi Roberto mi accompagnò nella vicina Etiopia, perché bisognava anche lavorare di strategie diplomatiche per cercare piano piano di realizzare questa struttura. E nel settembre del 2014, il 14 settembre, me lo ricordo perché è il giorno del mio compreanno, ma è solo una coincidenza, la scuola è stata finita, è stata completata. In quella scuola per tre anni sono state ospite di quella scuola 20 ragazze che venivano da 20 villaggi diversi dell'intero paese, alcune etnie anche in guerra tra di loro, però quanto può unire, stare insieme per tre anni, nonostante i problemi anche di guerrigli in atto di fibrillazione ancora di uno stato poco indipendente. Allora tutto questo poi è arrivato ad una conclusione bellissima che è avvenuta pochi mesi fa, perché le 20 ragazze si sono diplomate, sono rientrate nei luoghi di origine e quindi immaginare che in quei villaggi c'è chi prende un parto, che può essere la cosa più scontata, più banale del mondo, la bellezza della vita, quindi del ritorno a casa. Perciò questo video è bellissimo, perché qui non si festeggiava non solo l'arrivo del bambino, nuova vita, ma si festeggiava anche l'amore di una ragazza che torna viva a casa. Allora ecco, questo è un segno che ci ha dato la possibilità di essere consapevoli che uniti, insieme, mai andare da soli, si può raggiungere qualsiasi obiettivo. Anche arrivare a lì, in questi luoghi così complicati, sperduti, dove però c'è vita. Nel deserto c'è vita. Nelle nostre strade forse c'è l'indifferenza che è troppo silenziosa. E sono trascorsi ben quattro anni, Roberto, da quando lei è andato in Etiopia, ha accompagnato l'avvocato Ferri e poi da lì anche per lei è iniziata questo cammino con la fondazione. Ovviamente è cominciata prima, come ha già raccontato il caro amico Tommaso. È cominciata con questa preparazione iniziata a settembre del 2013, con questi vari incontri di preparazione ed è culminato con questo viaggio poi in Etiopia, che è stata la cosa più bella ed entusiasmante che ho fatto, oltre tante altre cose naturalmente, però questa è stata un'esperienza unica, sicuramente. Anche perché non avevo proprio idea, sinceramente. Vederla in televisione è tutta un'altra cosa. Uno guarda con fare distaccato, ma stare lì sul posto ci si rende. Si è portato a casa quello che comunque l'ha in qualche modo più… Ricordo sicuramente la partenza, la preparazione, la partenza con gli amici che eravamo lì, perché comunque eravamo con degli amici che ci hanno accompagnato, che eravamo una squadra, un gruppo, incoscienti, una buona parte perché era la prima volta che lo facevamo questo viaggio. Però poi una volta scesi dall'aereo e messo i piedi lì, è stata tutta una grande emozione, un continuo susseguirsi di emozioni che ci hanno colpito e ci hanno accompagnato per tutti i giorni che siamo stati lì. Sicuramente entusiasmante. Lei tra l'altro è un arianese, lo diciamo anche in studio, che ora vive da tempo, da oltre 20, no, 14 anni vive a Salerno. A Salerno la fondazione è bella, bella vivace. Sì, infatti ho conosciuto la fondazione lì a Salerno, perché anche se abitavo a pochi chilometri da Venticano, dove era la fondazione, non sapevo neanche dell'esistenza. Ho scoperto lì una sera di gennaio, ho conosciuto Tommaso ed è stato amore a prima vista, se mi permettete questa espressione, perché veramente poi... Quindi è un impegno che prosegue. Sì, sì, e che proseguirà sicuramente. Avvocato, e infatti ora torniamo un attimino in Italia, perché come abbiamo appunto anticipato la fondazione è attiva qui nelle tre province della Campania, ma in realtà non finisce qui il vostro impegno. Quali sono i progetti? Voi sostanzialmente sono gli studenti poi, oltre a... qualcosa ce l'ho anticipato, però approfondiremo in seguito. Quindi con le scuole, l'impegno con le scuole. Sì, ogni anno dettiamo un tema nelle scuole di tutta l'Italia, è arrivato al diciottesimo anno, e quindi con dei numeri che sono sempre cresciuti e con una partecipazione di tutti gli studenti di scuole di ogni ordine e grado, che affrontano con molta convinzione, passione, tenace, anche per quel premio che può arrivare ad essere un riconoscimento non solo per la scuola, ma anche per i loro sforzi, i loro sacrifici, e che ci consente di girare l'Italia intera. Noi siamo reduci da una tappa nel Molise, dove abbiamo incontrato le scuole del centro Italia, il prossimo 11 maggio saremo a Novi Ligure per incontrare le scuole del nord Italia, poi ci sarà una tappa nel nostro mezzogiorno con una significativa partecipazione che c'è, sarà a Montefalcione, quindi siamo proprio qui in provincia di Avellino. Quindi c'è un coinvolgimento che sui temi poi è apprezzato molto sia dalle famiglie, sia dai docenti, ma anche dalle collettività che poi preferiscono approfondire sulle tematiche svolte dai ragazzi, anche delle conoscenze che ci fa piacere possono migliorare il tessuto sociale. Bisogna sempre seminare, non perché noi possiamo essere la chiave di volta per aprire qualche portone di casa di cittadine che non conosciamo, però c'è stata una significativa esperienza che di recente abbiamo potuto vivere con un giovane ragazzo, Alessandro, che ci ha fatto vedere come poi attraverso un tema di un bambino si è arrivati anche lì a realizzare qualcosa di molto importante, di socialmente utile, adatto anche alle disabilità che molte volte non incontrano chi ogni giorno si ritrova per strada dei casi come questi e semmai una fondazione lontana è riuscita a far scoprire un problema, ma anche un'opportunità che si aveva in casa. Ecco, certo la fondazione lavora molto quindi con gli studenti e ci sono significative esperienze che oramai ci portano anche a essere richiesti nel resto del mondo dove abbiamo le missioni, per cui i nostri temi li svolgono anche i ragazzi che sono quelli che seguiamo nelle Filippine, in Papua Nuova Guinea, nel Sud Sahara, in Honduras ci sono due villaggi, due scuole, quindi c'è molta partecipazione, una mondialità che però fa capo sempre ad un occhio quello più bello che è dato dai piccoli, i piccoli arrivano ovunque, bisognerebbe ragionare vedere un po' le cose con l'occhio dei piccoli. Con l'occhio dei più piccoli e appunto la casa poi, la casa di Rachelina è una casa viva, tutt'oggi anche lì c'è un grande impegno, è un porto di mare in un certo senso, no? Sì, è un porto di mare, ha detto proprio bene, è un porto di mare perché attraccano quei profughi che vengono abbandonati sulle nostre strade, lo dico perché quando parlo di nostre strade parlo delle nostre strade erpine. Noi oggi vediamo anche con un certo timore, con la paura, il volto scuro di un uomo, di un ragazzo che cammina senza sapere dove sta, cosa può fare, senza mai però porci o chiedere a quel ragazzo di cosa ha bisogno, perché sta qui, da dove scappa. Noi abbiamo da cinque mesi una scuola, la scuola dei 100 paesi, sono 60 ragazzi che tutti i mercoledì incontriamo in fondazione, noi non facciamo accoglienza tipo comunità, associazioni che sono preposte a ciò, però abbiamo visto che a volte ci sono anche molto distratte queste organizzazioni che dovrebbero dedicarsi a questi ragazzi per l'insegnamento dell'italiano. Abbiamo 60 ragazzi a cui insegniamo l'italiano, ma l'italiano ha delle buone regole, dell'educazione, del rispetto, del far scoprire perché è Natale. A Natale di quest'anno è una cosa che mi ha colpito molto perché poi queste idee a volte arrivano all'improvviso e poi scopri che sono quelle giuste per poter creare quella famiglia con, ripeto, 60 ragazzi di 11 etnie diverse, 11 paesi che non si conoscevano neppure tra loro, ho spiegato loro perché era Natale. Loro non capivano, motivo di tanta agitazione, di festa, di colori, di luci, c'è chi scrive a Babbo Natale, chi scrive forse a Gesù Bambino, ho detto loro scrivete alle vostre mamme. Vi posso assicurare che è stato bellissimo vederli con fatica a scrivere e scoprire che cinque ragazzi di loro non erano mai andati a scuola e quindi non sapevano né leggere né scrivere. Allora, sono delle opportunità che noi oggi abbiamo, ma non per sfruttarle, perché poi c'è chi dovrebbe essere preposto e sicuramente è attento e vigile a poter vedere dove può essere anche sfruttato. Però, ecco, abbiamo dei ragazzi che sono più piccoli e più deboli dei nostri figli. I nostri figli si possono difendere anche perché hanno la possibilità di saper distinguere, di saper leggere, di saper scrivere. E quando tu scopri che ci sono cinque ragazzi di 18 anni che non sono metati a scuola perché nel loro paese non c'è la scuola, nel loro villaggio non c'era questa opportunità, allora ti chiedi, muoviamoci e cerchiamo di fare qualcosa per loro, con loro però. Questo è importante, fare le cose con loro. Roberto, lei ha approcciato alla fondazione da laico o da fedele? Beh, da laico e da fedele, contemporaneamente. Comunque ero impegnato e sono impegnato nella parrocchia in cui adesso vivo, nella parrocchia di San Demetrio Martire a Salerno e ho conosciuto lì Tommaso, quella sera, grazie alla parrocchia in cui adesso vivo e opero, che comunque sono attivamente impegnato in questa parrocchia. Sentire poi questa bambina che diventerà santa sicuramente per noi già lo è, delle nostre parti è stata un tocco, un'emozione incredibile che mi ha spinto. Aprivi un mondo proprio. Sì, sì, ha aperto un mondo nuovo, sicuramente. E poi con Tommaso e con il nostro parroco, Don Mario, Monsignor Mario Salerno, abbiamo scoperto un mondo nuovo, almeno io personalmente e devo dire grazie a Tommaso perché Tommaso mi sta facendo vivere delle emozioni e delle cose che non avevo mai provato prima. Conoscere persone incredibili, che le vedevo in televisione, ma non personaggi famosi dal punto di vista televisivo. Come diceva appunto l'avvocato, lei è stato un esempio classico di chi decide di alzarsi dal divano e di andare incontro agli altri. Tra l'altro, avvocato, appunto Roberto ci ha introdotto a questa nuova parte del nostro discorso, perché c'è la causa di beatificazione e canonizzazione. Roberto ha dato un buon auspicio. Lei può raccontarci un po' i dettagli di questo percorso? La ragherina è già venerabile, già dal 2012 con la proclamazione che avvenne attraverso un decreto firmato dal Papa Benedetto XVI. Oggi sappiamo che si è chiuso il processo per una guarigione straordinaria di una giovane mamma e quindi tutta la documentazione, dopo sei lunghi anni di attesa, perché bisogna avere molta prudenza in questi casi, oggi tutta la documentazione è in Vaticano, presso la congregazione, dove padre Raffaele Di Muro, che il postulatore la sta seguendo quasi quotidianamente, perché speriamo tutti che possa venire quanto prima questo annuncio di Papa Francesco che proclami Rachelina beata. Ma su questa storia di Rachelina posso dire anche che ogni giorno c'è un segno che Rachelina fa arrivare a tutti. quel segno della speranza, il segno di affidarsi a lei, affidarsi per intercedere, lei intercede e intercede anche bene, è una ragazza che corre. In alcune realtà del mondo Rachelina è già santa, Rachelina è già santa nelle Filippine. Non faccio un'affermazione che potrebbe essere anche poco prudente, Rachelina ha fatto un'opera straordinaria su un bambino nelle Filippine e dove lì indubbiamente la voce del popolo è voce di Dio e quindi si è andati anche oltre quelli che possono giustamente essere dei passi che la Chiesa con prudenza porta avanti. Però Rachelina diciamo che una volta alla settimana ti arriva qualche annuncio di qualche grazia o di persone che certamente chiedono di fare affidamento a lei, per cui Rachelina che è sepolta presso la Chiesa del paese di Vinticano, sicuramente c'è una frequentazione che dà quanto meno conforto e anche dà speranza perché è quell'esempio che poi noi portiamo dentro, è quell'esempio di essere anche pazienti con tutti, di avere quella perseveranza che nelle cose bisogna portare avanti, stando accanto a quelle persone che puoi incontrare e che puoi anche non conoscere, però bisogna prendere il suo passo, non era un passo difficile, era un passo di una ragazza che molte volte tornava a casa scalza perché le prime persone che aveva bisogno lei lasciava le scarpe, si poteva sentire il rimbrotto del papà però poi alla fine sapeva come addolcirlo. Ovviamente non bisogna tornare scalzi a casa, bisogna camminare scalzi per strada, bisogna camminare scalzi per strada e cercare di mettere da parte tanti pregiudizi perché tornando a quel discorso della scuola dei cento paesi c'è tanto da fare con questi ragazzi, c'è tanto da fare ma anche tanto da aprire gli occhi perché intanto sono sicuro che la Grina sarà anche più contenta di quello che sto dicendo e scavalco un po' la sua domanda. Non bisogna chiedersi perché i ragazzi hanno le scarpe nuove, quasi fosse il contrario, bisogna dare a questi ragazzi il profumo della dignità, il profumo del dono pulito, anche non dare nulla ma posso assicurare che la sicurezza che loro provano stando in quella casa per quelle due ore al giorno della settimana per loro è di grandissimo aiuto, il profumo di sentirsi utili alla società e noi quindi è questo che è importante arrivare attraverso il messaggio che quello di Ragalina è più che mai attuale. Bisogna essere dei buoni cristiani ma bisogna essere degli ottimi cittadini e lei lo scriveva in un suo tema, quindi pari dignità sociale. Bisogna essere dei cittadini, quindi quelle ci sono delle domande un po' diciamo dei pregiudizi no? Delle domande pregiudizi che spesso le persone si fanno e sono proprio queste domande che bisognerebbe insomma abbatteri, andare oltre perché come ha detto lei non è la questione delle scarpe nuove, non è la questione del cellulare, non sono queste appunto le questioni su cui soffermarsi. Siamo in conclusione Avvocato, diamo un appuntamento che è proprio tra pochissimi giorni, ovvero il 5 maggio. Che cosa accadrà a Venticano? Il 5 maggio c'è la nostra giornata che è anche il compleanno della fondazione come ho detto che compie 45 anni. Noi ogni anno destiniamo un premio ad una personalità nel campo umanitario di come si preoccupa del prossimo. A Venticano sono arrivate in questi anni tantissime persone da tutto il mondo, ma proprio da tutto il mondo dove sono arrivate anche a scoprire una realtà che dà il cuore al mondo, perché in quella casa c'è il cuore. Quest'anno abbiamo voluto darlo ad una strategia di comunicazione. Quindi quel premio, quel riconoscimento va a voi come stampa. Va a voi come stampa che ogni giorno combattete attraverso questa telecamera per noi. Ogni giorno sfidate anche dei problemi che sono quelli che molte volte sono anche pericolosi da affrontare. Una comunicazione che può essere attraverso il sorriso, può tirarsi fuori poi dentro una storia che bisognerebbe cercare di approfondire meglio. Attraverso la denuncia di quella penna si può cercare di scrivere un libro che sia una sentenza di libertà, che è la libertà che è quella che un po' alla volta però bisogna tenerci stretta dentro. E noi quest'anno la andremo a dedicare ad una trasmissione televisiva. Questa è un'occasione, un invito anche a venire a Venticano per scoprire un mondo che fa parte del nostro mezzogiorno, perché quello che mi fa piacere è attraverso la vostra emittente che ringrazio, Canale 58, che è un'antenna del territorio così bello e importante e arriva in tante realtà della nostra regione. Abbiamo un sud che è meraviglioso, con tante realtà piccole e sconosciute. La fondazione è un paradosso, a volte sembrava una colpa, bisognava chiedersi dove non funzioniamo. È molto più conosciuta nel resto d'Italia e nel resto del mondo. Così deve andare, ma così è anche quel passo silenzioso che dobbiamo portare avanti, però cercando attraverso voi, con voi, di fare forza, di fare squadra, di farci conoscere, di stare insieme e anche così essere poi motivati a realizzare qualche altra cosa sulla nostra provincia, perché c'è tanto da fare. Quindi siamo vigili e silenziosi sul territorio, silenziosi, però ovunque andremo fuori faremo rumore, perché è importante farci sentire. È importante farvi sentire, è importante conoscervi, infatti invito ad andare sul sito internet ufficiale della fondazione www.fondazionerachelinaambrosini.it. Lì si possono trovare tutte le informazioni su Rachelina e sulla fondazione. Tra l'altro mi permetto anche di aggiungere, non so se farà piacere, però la fondazione Rachelina Ambrosini può essere sostenuta e può essere sostenuta con il 5 per 1000. Grazie. Grazie per la vostra disponibilità. Grazie a voi. Grazie a voi. Quindi l'appuntamento è al 5 maggio, a Venticano, e lì scopriremo anche l'angelo della pace. Grazie a voi che siete stati in nostra compagnia. Alla prossima Password. www.canale58.com, la tv sul web. Notizie, video, rubriche, diretta streaming. Scarica l'app di Canale58 per tablet, smartphone, iPhone. Grazie a voi. Grazie a voi.